Che gran brutta figura che ha rimediato il Consiglio regionale della Puglia. La notizia è passata un po' sottovoce, eppure è una notizia di portata storica in un certo senso, perché vede il governo, con il Presidente Conte, intervenire per decreto lì dove i consiglieri regionali erano riusciti a dare il peggio di se stessi. Partiamo dall'inizio. Il Consiglio regionale pugliese, nell'ultima occasione utile, non riesce a introdurre la preferenza, la doppia preferenza di genere. Così come stabilito dalla legge nazionale. Riuscendo addirittura a farsi bloccare da qualche migliaio di emendamenti da parte di fratelli d'Italia, quelli della famiglia tradizionale. Quelli che le donne le vorrebbero vedere a casa, a curare i bambini, a stirare e nient'altro. Che una regione non riesca a mettersi in regola, con una legge così importante, non riesca a garantire la parità di genere, soprattutto non riesca a fare nulla di concreto per la partecipazione politica delle donne, e la fotografia di un paese in cui l'autopreservazione degli uomini è e rimane uno degli ostacoli principali. Il governo ha provato a richiamare i consiglieri regionali alle loro responsabilità. L'invito ovviamente è caduto nel vuoto. La brama di qualche maschietto di non perdere il posto alle prossime elezioni ha contato più dei principi che vengono enunciati e poi non vengono mai messi in pratica. Così alla fine è dovuto intervenire il presidente Conte con una mossa che ha qualcosa di storico. Il governo ha nominato il prefetto di Bari, Antonio Bellomo, commissario straordinario, con la funzione di provvedere, dice, agli adempimenti stentamente conseguenti per l'attuazione del decreto sulla doppia preferenza di genere nelle regionali in Puglia. Poche ore dopo il presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato il decreto legge. E ha ragione la ministra per le pari opportunità della famiglia, Elena Bonetti, quando scrive Affermiamo così che la parità di genere è un principio da tutelare in tutto il Paese, in maniera uniforme, perché in maniera uniforme va tutelato il diritto alle pari opportunità. Abbiamo anticipato negli scorsi giorni la volontà di utilizzare questo strumento inusuale, sperando tuttavia che le istituzioni pugliesi si adeguassero autonomamente. Sì, ciao. Non avendolo fatto, non abbiamo avuto altra scelta che questa, per garantire i diritti e la legalità. Ho chiesto, insistito per un commissario straordinario, che sia garante della piena applicazione del decreto e lo abbiamo individuato nella persona del prefetto di Bari. È un gesto enorme e giusto e dimostra invece che la parità di genere della politica continua a mostrarsi in tutta la sua bruttezza quando si occupa solo di sopravvivere a se stessa. Ben fatto. Buon lunedì. Grazie. 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 Grazie.